Fai il tira, ma lo fai il tira Non la vai il tira Se lo gaggancio 3-1 3-1 3-1 3-1 4-1 5-1 5-1 5-1 6-1 6-1 7-1 7-1 6-1 6-1 7-1 7-1 7-1 7-1 8-1 8-1 9-1 9-1 9-1 10-1 10-1 9-1 10-1 10-1 9-1 9-1 10-1 10-1 10-1 Di arma Ancona N di naso O di otrando T di tizio H H di hotel E non mi sponda Another one bad dust Qual era? Another 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 one Mettici one Esatto Questo era Buongiorno Un altro che mangia la polvere vuol dire Andate un po' nel po' it's the dust Ma questo si assomiglia un po' Vediamo, vediamo Parte o non parte? C'era un po' C'era un qualcosa Queen Si Però c'è pienamente Vaga, vagamente Non ricordo Allora Domenico come stai? Come stai stamattina? Alla grande Io no Io ho un mal di schiena che non hai idea È raffreddato Ma dovresti vergognarti Lo so, lo so Mi vergogno Hai tempo per vergognarti 5 minuti me ne dai Hai meno della metà degli anni miei E stai così male Io quando avevo l'età tua Era tu leone No Magazzella Di notte Di giorno Di giorno poi Buongiorno Buongiorno E poi lo dico Ma sul web non c'è nessuno Ragazzi Caffè letterario dove siamo? Quattro persone che ci guardano Il Gallo ha fatto show per lo stamattina Io sai cosa voglio salutare? Voglio salutare gli amici miei Anche quelli che non figurano L'altro giorno Prima che andiamo insieme Raccontiamo questa cosa curiosa Ho visto un amico che ha un'attività commerciale No? Non possiamo dirlo se non si capisce Ma tu ci segui eccetera eccetera No? Sai quando io lavoro Praticamente Perché oltre ad avere un'attività commerciale È un posto pubblico Ok Sai quando lavoro non ti posso Ma certo In effetti quando sei in ufficio Non ci siamo capiti Io quando sono nella mia attività Non ti posso seguire Ti seguono Non sei in ufficio Che vuol dire questo Riccardo? Che vuol dire? Vuol dire che Non lo so Seconda te che vuol dire? Che vuol dire? Che vuol dire? No No Se ci segui quando sei in ufficio Perché io qua lavoro Quando sono all'attività commerciale È uno dei forbetti? No Tu sei sempre Pensi sempre Ma non c'ha connessione Nella sua attività Ah non c'ha connessione Non c'erano mai Vai con la sigla Cadio Assessore Assessore Cigi letterario Cigi letterario Ti sembra un dipario Non è un formulario Ma un verdizionario Notizie Servizi Cornetti Supplizi La musica Un caffè E anche un monte Cultura e leggende Per tutta la gente Lo dico al giornale Lo Riccardo è l'assessore Cigi letterario Cigi letterario Il vostro scenario Bene 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 Buongiorno Buongiorno Come state? Fateci sapere Avevamo un foglietto di Liborio Avevamo un foglietto Forse quello lì Però te lo posso dire anche a memoria Ormai Io l'ho imparato Ciao Totti Vediamo Tu mi correggi eh Allora Liborinsalaco Salutiamo Liborio Liborinsalaco Di punto com Via da Regina Margherita Numero 192 Sì Accanto ad Abitus Che fa riparazioni Centro fast web Tiscali E si portano Ah ma sei diventato bravo Ciao Liborio Ciao Liborio Ma veramente guarda Maria Luisa Scaglione Ma ha abbassato un po' il volume Ma andiamo a me Certo che lo possiamo L'ho abbassato mentre eravamo in diretta L'ho già fatto Basta un po' Basta un po' Buongiorno Buongiorno Ah Ah sei qui L'ho abbassato mentre eravamo in diretta Maria Luisa mi sembrava che era Andate via così al volo Arrivederci Buona giornata Buon lavoro Maria Luisa Un pochino Sì va bene Non avete nulla da dire Allora Noi sì e poi E poi ci porti un cornettino piccolo tagliato in due E due cannucci No cannucci No cannucci No cannucci No cannucci Esatto Cornettino a favore A tuo piacere C'è una notizia strana C'è una notizia strana Stamattina C'è una notizia strana Oggi Non ho capito bene Perché ho sentito diverse notizie La prima era che Elton John ha fatto il compleanno ieri La seconda che l'ha fatto oggi La terza che l'ha fatto domani Ma si può sapere su Elton John quando fa il compleanno? 70 Dove sapere quanti anni? Quando tagliati Elton John? Quando lo fa? Lo vuoi guardare? Si ma quando lo fai il compleanno Elton John? Si ma quando lo fai il compleanno Elton John? Si Si è diventato vecchio Ma è di giovane Ma la sua musica è intracontabile Certo C'è questo pezzo You song La sua canzone? Bellissima Elton John Sentite sentite La versione live C'è canti dietro Riccardo Ce la fai? Fai? Non ricorda le parole Niente ci fa Canta anche Elton John E poi c'è E' sconciona Riccardo Vieni qua Sbagliate questo papà E' strato E' il primo lavoro che so attento Lavori Lavori Scusate Stamattina Carmela Mendova e Senatesta Ci stanno seguendo Maria Luisa Scaglione è qua Ettore non c'è Ciao Simone Ciao Ciao Ma che è successo stamattina? Siete tutti in sciopero Ma che c'è? Eh ma... Siamo oggi Oggi? 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 Ce lo siamo chiamati Cesare Ma ci piace il caffè? Ma ci piace il caffè? Ce lo facciamo portare da Calogero Vieni qua Vieni qua Dietro abbiamo visto una notizia Hanno rimosso e l'hanno spostato Vedete il puffetto Avvicinate il puffetto Ciao Cesare Come sta? Troppo, troppo nano Più nano di quanto No niente Ma è più alto È più alto Cesare è più alto Ma io non mi vedo lì Perché? Non ti vedi lì dove? È ritardato Lì ci sei Allora guarda guarda stai arrivando adesso Siamo in posto in produzione Il tuo giorno fa 70 anni domani Cesare Un po' meno giovane di noi Un po' meno giovane di noi Ma poi è uno scherzo anche a Cesare stamattina Ma che conviene sempre inverno? Qua sarà semvernoso Cesare Semvernoso Ma chi è sta storia? Una cosa dobbiamo dirvi Da quando Cesare ha pubblicato quella foto di Largo Osta Dove c'era tutta la spazzatura e la sporco Lì è sempre pulito è vero? Sì, lo confermo Adesso è sempre pulito Bello sto ruolo Grazie Le esagerazioni sono importanti Allora qua io leggo su Canicati Web Innovativo parco divertimenti Canicati la rotatoria itinerante da oggi anche parco giochi E le cose belle non durano Sono appena passato ho fatto una fotografia L'ho postata ora su Facebook Ci ha portato anche una cannuccia Come gli ho detto Che bella sta cosa Vuoi dare una tirata? Che bella sta cosa Portiamo un caffè anche perciò Ciao ragazzi Portiamo un caffè perciò Io sono sempre Tutto Per me caffè l'ho preso Non ne vuoi caffè Lo zuccheri? Lo zucchero? Lo zucchero ce lo porti calo sei un grande Lo zucchero? Che è successo? Allora facciamo Mende Locale Grazie calo sei un grande Facciamo Mende Locale Giorgiatina ci siamo Buongiorno Ciao Giorgiatina Può dare un punto alla prima sta sveglia Dunque Va bene così Ci stai pensando Cioè su sguardo furbe No 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 C'è poco da pensare C'è poco da pensare C'è poco da pensare C'è poco da pensare perché Ti ho colto in draglanta No Mi dispiace anche perché Perché lì Lì e lì ci avremmo fatto la nostra fortuna turistica Nel senso Nel senso E adesso da dove partiamo? Non lo so Allora io stavolta ho fatto questo articolo Si Voglio dire che Siccome avevano lasciato questo gran cumulo di sabbia come una pala Si Comunico che la pala come si diceva Se la sei presa la pala No no Saputiero Nel senso che Saputiero Non c'è più Avevo fatto un articolo Ascolta Vi avevo fatto un articolo Dove tra l'altro questo è un modo nuovo di terminare il parco giochi Perché ci sono tutti questi bidoni di plastica Questa rotatoria che cambia forma mentre tu ci stai nel mezzo E Adesso ci torno E la sabbia dentro E quindi le famiglie con i bambini Con il cestello e la paletta Potevano andarci a giocare Stamattina Subito dopo l'articolo Non c'era più la pala L'hanno L'hanno Si però so che tu vai di là mentre eri là stai facendo questo articolo ascoltare questo pezzo No no Stessa spiaggia Stesso Ma Aggiungo 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 Che nell'ottica dello sgrabio Si era pensato di non fare pagare l'Imu per tre anni A quelli che andavano a costruire i castelli di Sampia lì Ma ragazzi io non le faccio più Ci dissociamo Ci dissociamo Lo vuoi il caffè? Sì o no? Allora tu vuoi il caffè? No grazie No grazie Con una risata diceva Woody Allen Ascoltami E aggiungo di più Allora questa cosa piuttosto che far ti dire ti farà piangere No no piangere no Mi dicono E non ho motivo di non crederci perché credo che sia una nota ufficiale già inviata al Presidente del Consiglio Che sono stati stanziati No questa cosa No perché voglio dire siccome non troviamo i soldi per la carta igienica Sono stati stanziati 65 mila euro per realizzare questa rotatoia Però sarà con tutti i vetri svaroschi a girare Ci sarà un essere umano che farà il triplo salto mortale ogni giorno E se dovesse morire a seguito del salto mortale lo sostituisco Perché con 65 mila euro una rotatoria così voglio dire ci saranno tutti E poi ad un certo punto questa rotatoria come dire si stacca da solo si alza e ti rende una fontana Quindi 65 mila euro per questo motivo non per altro E dire che buongiorno Totino e dire che una volta c'era questo pezzo guarda una volta ci si accortava Di molto meno Se sono la finissima questa cosa delle canzoni a te ma me ne vado Te lo dico di chi E' insopportabile E' una cosa insopportabile Basta con queste canzoni a te ma non vengo più Tra l'altro una canzone di recentissima qualche anno L'alzo ieri L'alzo ieri Oppure li fai così No guardo Guardo Guarda quali sono i problemi E ci scrive l'articolo la notte stessa Le sei Al prossimo pezzo che metti a te ma mi alzo e me ne vado No non ne metto più No non ne metto più pezzo a te ma Allora commentiamo quest'articolo dai Parliamo di questa Allora ma notizie vere Abbiamo stanziato davvero 65 mila euro per questa A quanto pare si A quanto pare si A quanto pare si E se dovesse corrispondere voglio dire A un'intenzione di spesa Io personalmente ma credo L'intera cittadinanza Si dovrebbe come dire Indignare Perché è una cifra spropositata E' una cifra fuori in un paese In cui manca l'essenziale Cioè dove ogni giorno distruggiamo Le sospensioni della macchia Dove ogni giorno cade un ragazzino col motorino Dove le strade fanno pena E buttare Una cifra così importante Per una rotatoia che si potrebbe fare Con dignità e con economia Eccetera E' uno schiaffo E' uno schiaffo Sul quale noi staremo Vi gireremo perché Non è che ci si può girare All'altra parte Prendi fiato fai un pezzo non a te ma No 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 Poi un pezzo a problema Intanto salutiamo Giuseppe Salamone Buongiorno a tutti Le ronda sul mare No 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 Un pezzo non a te ma Un pezzo non a te ma Vai vai Vediamo 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 Poi parliamo del nostro format Cesare Non ci pensare Non è a te ma questo pezzo Non è a te ma questo pezzo Un pezzo non a te ma Tu non mi pare Mi ha scitato il pulsante mentre eravamo in direzione Tra l'altro Sei diventato un organo? Che bella sta cosa Che bella sta cosa Allora c'è in arrivo Katia, adesso che finite di parlare venite qua, intanto noi andiamo avanti con le notizie, Cesare è riuscito a fare casino, allora noi andiamo avanti con Vieni Katia.... Buongiorno... Spostiamo quelle cose in casa se non ci entriamo... aspetta 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 michele la felice la vedete si ad una scuola qua qua che l'acqua che devo vedere io la dico io lo dico io sono assessore posso è anche allora siccome era stamattina alle 7 che io dicevo a telefonate mi trovi svegliata stanza, mi trovo stanza sulla rotatoria io voglio soltanto precisare che questi sono voti di compensazione che ovviamente hanno un obiettivo, quello di migliorare il traffico non è che sarà soltanto effettuato il lavoro sulla rotatoria è tutta la piazza interessata ma non c'è una piazza e questo spazio ci saranno anche zone di parcheggio quindi verrà messa tutta non c'è una piazza, è una rotatoria che va a parte a bere allora, a me le persone la parlano sempre a bambera non è che mi piacciono tanto perché lì c'è un progetto è ovvio che i soldi una cosa è volerci bene una cosa è parlare a bambera io non parlo a bambera io non parlo a bambera non ti contento di dire una cosa perché io non parlo a bambera sono fondi di compensazione sono soldi che hanno una finalità quella di migliorare il traffico quindi non è che tu li puoi tornare li prendi e li usi come vuoi che magari possiamo discutere ovviamente ci può anche stare sul fatto ah ma sono 65 mila euro però il problema è che tu è interessato a tutto questo spazio e quindi tutto questo spazio insiste una rotatoia lì vabbè ascolta io non posso parlare aspetta uno per volta uno per volta uno si fa vedere il progetto vede tutte le cose che parlano parte di questo finanziamento e comunque voglio dire anche io quando ero fuori da questo sistema è ovvio che potevo criticare la somma spesa omessa ma è ovvio che se c'è un progetto e questo progetto contempla la disposizione di tutto questo spazio poi è ovvio che ci sono calcoli lo sapete meglio di me no c'è il buon senso perché non può una famiglia che non può fare la spesa camminare con forza i fondi di compensazione se sono ovviamente finalizzati a questo sono finalizzati non a questo ma non è scritto è finalizzato a questo no c'è scritto sono finalizzati a migliorare le strade le strade sono con l'abbrodo e allora siccome lì si parla da tantissimo tempo di sistemare questa rotatola è ovvio che quello che ho fatto interessato questo non è che ci sarà soltanto questo spazio interessato è ovvio che si cerca la possibilità di avere più soldi possibile per cercare di mettere in sicurezza tutte le strade però io voglio sottolineare questo è capitato con le foto postate su Facebook di cani morti risalenti a tre anni fa e voglio dire lo dico no ma stai parlando in mia presenza è questo no no te lo dico perché tre anni fa no io non ero riferito a te stavo dicendo la cattiva informazione prendeteci alto non faccio anche informazione ma scusami prendeteci alto se io ti preciso che i fondi di compensazione in questo caso relativamente a questo spazio sono stati ovviamente saranno spesi per metterlo in sicurezza sicuramente verrà anche disposto una zona di parcheggio cioè non è solo la dotatoria e quindi volevo solo precisarlo poi ognuno è libero di dire ah sono tanti o pochi calmiamoci metto un pezzo che mette d'accordo un pezzo non è a tema un pezzo Rocky Balboa un pezzo che non è a tema oddio intanto salutiamo intanto salutiamo Rino Panchieri che dice è bello andare d'accordo Giuseppe Salamone unica linea di principio e poi Giussi Corradino buongiorno questo rimette gli animi in pace non litighiamo aspetta scusate scusate allora Cesare ha detto che per questa rotatoria sono stati stanziati 60 mila euro Katia dice 60 Katia dice che aspetta sono fondi di che praticamente queste 65 mila euro non serviranno solo a realizzare questa rotatoria ok possiamo avere il progetto e sapere queste 65 mila euro a cosa serviranno così domenico su questo io ovviamente non è una cosa rivolta a te non c'è io posso dirvi rivolgetevi all'assessore preposto e magari chi è l'assessore? Massimo Muratore ma chiamiamo Massimo ovviamente no posso perdonami posso avere diritto in replica voglio dire se ogni cosa deve essere una polemica le cose quando non si fanno perché non si fanno le cose quando c'è l'opportunità di farle e si fanno bisogna anche voglio dire accettarle con le regole che hanno non è che uno la mattina si sveglia e fa le cose tanto per farle qua intanto c'è gente che lavora seriamente seriamente anche mi dispiace questo continuo attacco nei confronti di un'amministrazione che comunque ha solo la colpa di aver ereditato una situazione disastrosa di questo paese non è che ci vivete solo voi io vivo veramente dentro questo paese lo percorro ogni giorno come lo percorre lui e il dispiacere è enorme di rendermi conto di accorgermi che ci sono problemi davvero enormi e l'unica cosa che vi posso dire ci stiamo davvero attrezzando per poterli risolvere non sarà facile non sarà immediato ma non posso dire che dormiamo tutti come qualcuno vuole fare pensare ferma vai Cesare io volevo dire tranquillità alla mia amica Katia tu devi avere anche la bontà di ascoltare tu devi avere la bontà di ascoltare e io non attacco nessuno ma vi faccio presente che tutte le segnalazioni che io faccio voi puntualmente le andate ad attenzionare quindi significa i contatori scoperti i contatori scoperti con il rischio che fosse morto che potesse morire un ragazzino li avete subito immediatamente coperti quando ve l'ho detto io scusami scusami è una coincidenza che la buca ai semafori dove si poteva andare a rompere le corno un ragazzino l'avete ricoperta l'indomani eccetera eccetera io vi posso io vi posso fare una lista scusami dieci minuti fa ho postato la fotografia e l'articolo sulla montagna di sabbia messa alla rotatoia da 20 giorni appena postata la fotografia siete andati a toglierlo allora sono tutte coincidenze e allora io sono un pazzo di manicomio detto questo detto questo no tu hai parlato ora parlo io i fondi di compensazione è un modo elegante per chiamare soldi si chiamano soldi sono arrivati soldi perché mi stanno passando le strade qua vicino eccetera eccetera e quei soldi possono essere adoperati con il criterio del buon padre di famiglia io ho parlato con un dirigente che troce uno del mestiere e mi ha detto non cito il nome per non metterlo in difficoltà mi ha detto una rotatoia con il criterio del buon padre di famiglia può costare al massimo tra gli 8 e 10 mila euro col criterio del buon padre di famiglia spendere 65 mila euro per una rotatoia un paese che ha bisogno tante altre cose è come il padre di famiglia che cammina col Porsche Cayenne e non può fare la spesa per i bambini a casa secondo il mio criterio poi se voi ritenete che tutte le segnalazioni che faccio che voi puntualmente poi attenzionate a chapeau e vi do come dire attestazione di questo sono un attacco all'amministrazione fate pure cioè e vi faccio anche l'applauso quando andate a fare le cose quando andate a risolvere le cose per cui di che stiamo parlando volete che ci giriamo dall'altra parte e non replichiamo come volete io volevo soltanto dire che ci sono cose che ovviamente quando lui le ha segnalate e dovreste ringraziare occhi per lui le abbiamo subito accolte però volevo precisare caro Cesare che pochi giorni prima 4-5 giorni prima che tu ovviamente attenzionassi questa cosa dei contatori io ero andata a fare il sopralluogo perché come tu sai stiamo per morire un bambino un attimo ci vuole 4-5 giorni prima e perché in questi 4-5 giorni prima l'altro sopralluogo non c'è andato niente no ti volevo dire che 4 giorni prima no non c'era questo scempio non era stato non dire questo non lo dire perché ho nevole dire 4-5 giorni prima ma non so quando è stato può essere una settimana o un po' di giorni ti voglio dire io ero andata in questo posto perché siccome stiamo cercando sempre in economia di mettere anche diciamo ordine e non solo riparare quello che è possibile riparare restituire alla città per esempio la stessa pista che fa parte del parco Robinson purtroppo devo dire non c'era questo scempio quindi quando lui l'ha segnalato certo è importante abbiamo fammi chiedere piano ci siamo non sto dicendo 10 giorni 15 giorni io ti posso dire che ho fatto il sopralluogo ancora purtroppo lo scempio non era stato effettuato quindi abbiamo accolto sicuramente subito e in maniera genere la tua segnalazione per poter andare a chiudere questa situazione gravissima e questo lo voglio dire ma c'è anche c'è anche un piano c'è anche quando lui fa le segnalazioni io ti posso ovviamente dovrebbe essere l'assessore per il posto io non posso no no assolutamente noi anzi Cassia scusami invitiamo Massimo invitiamo Massimo se tu sei in ascolto vieni lunedì però io ti posso garantire ti posso garantire che siccome con Massimo spesso spesso lavoriamo in sinergia o quantomeno almeno ci confrontiamo ogni giorno ogni sera per fare un resocondo eccetera eccetera mi aveva detto che nella programmazione della manutenzione c'era attenzionate la buca che dice lui è ovvio che nel percorso che si fa tutto quello che dicevi tu posso dire una cosa Cassia scusami ora non è una questione che noi non vogliamo che voi o tu segnali anzi noi raccogliamo con grande tenso però voglio dire la cosa che voglio sottolineare è che tutto questo lavoro che si fa male o magari non benissimo come si dovrebbe fare vi ripeto e questo credo l'assessore ha preposto che lo sottolinea è fatto veramente in economia ok d'accordo è ovvio che non ci piace non è che ci piace lavorare così io non voglio io non voglio scusami io non voglio assecondare Cesare però una rotatoria 65 mila euro in economia non mi sembra ma io ho presidato che non è ma non è la rotatoria però se c'è ci sono altre scusate posso dire una cosa intanto brava intanto io devo dare anche voce a chi ci segue Loredana Brillante dice buongiorno concordo con Shabbarra Letizia Salamone buongiorno ragazzi a parte questo scusami Katia stai qua io volevo dire una cosa nella precedente amministrazione io mi sono sempre scontrato con la vecchia amministrazione in maniera affettuosa anche la lite che voi state facendo la lite con Cesare non con Cesare Shabbarra e Katia Ferrauto con l'assessore e con diciamo il pro cittadino no no chi fa parte della redazione giornalistica di Canica T Web io ho sempre detto io penso che Cesare è una cosa che può fare allora tu dici che praticamente quando lui fa le segnalazioni voi già le avevate allora perché non facciamo una cosa per mettere pace perché non creiamo un trend union tra l'amministrazione scusami e Canica T Web dove voi comunicate periodicamente i lavori sui quali state lavorando e lui ve lo fa gratuitamente cioè mi posso prendere la briga di quest'altro però io devo dire per l'onestente elettuale cara Katia perché l'onestente elettuale è l'unica cosa che ci rimane poi speriamo da un certo tempo come ci sono arrivato io come si fa a dire una cosa del genere che voglio dire il mio è un attacco all'amministrazione perché non due il tempo largo a osta se io ti faccio vedere il mio telefono il sindaco affettuosamente perché ci vogliamo bene mi ha detto un giorno mi sa che ti vado a denunciare per stalking io sono stato un mese ho le foto giorno dopo giorno quando accompagnavo la bambina a scuola ad inviare le fotografie con la spazzatura fuori dai cassonetti negli orari dell'entrata della scuola ho perseverato in questa cosa per un mese poi hanno capito che andava trovata una soluzione perché non mollavo l'osso allora mi si può dire grazie invece di attaccarmi ma per tutte guarda se io ti vado a prendere purtroppo purtroppo per le amministrazioni il web a memoria non è la televisione che è passata il telegiornale non se lo ricorda più nessuno il web a memoria se tu vai a cercare le centinaia di articoli fatti da me corrispondono alle centinaia di interventi fatti da voi e se vai a guardare il giorno dell'intervento dal giorno dell'articolo vedi che c'è una concomitanza che è impressionante quindi cara Katia io vorrei che tutti voi amministratori da Massimo tu il sindaco eccetera eccetera aveste rispetto ai miei confronti e ogni tanto ringraziare perché inizia a dare fastidio questo vostro pensare sì questo vostro pensare che io sono contro di voi io non sono contro di voi io sono a favore del paese perché io non direi a chiedere di aggiustare la strada sotto casa mia segnalo da via Carlo Alberto a via senatore San Martino per cui vi prego di cambiare atteggiamento mettiamo un pezzo prendiamo fiato prendiamo fiato prendiamo fiato prendi fiato dai prendi fiato intanto diciamo Carmela Mendola dice metteranno al centro una statua d'oro Adolfo Sgammeglia buongiorno grande Cesare c'è Mariellina caffè letterario buongiorno ma chi è che ci saluta? ci salutiamo da soli qualche amministratore lei cosa vuole che sbuga da lontano? il gesto mattina c'è abbastanza un belgo un vivente occulto allora se sei venuto per caro scombiglio dillo prima un vivente occulto occulto dobbiamo fare la pace dobbiamo fare la pace e l'unione fa la forza dobbiamo fare la pace e l'umiltà va bene andiamo avanti andiamo avanti facciamo aspetta la pace non abbiamo mai vediamo vediamo e io quando finisce si la puia però poi fra 5 minuti l'architetto l'architetto mi ha detto dobbiamo fare la pace per l'amore della pace ascoltami ascoltami non è una queste di pace io a Katia Katia mi lega buongiorno a Katia mi lega ma non stanno litigando si vogliono bene un affetto che va al di là del suo assessorato poco conta il suo assessorato nei confronti dell'affetto che mi ha io so però vorrei dire una volta per tutte così anche per tutti gli altri assessori per il sindaco come presidente della Repubblica eccetera eccetera io non sono contro a nessuno non si vede bene mi dicono io sono per affinché questo paese si sollevi perché ne ha le caratteristiche ieri sera con un mio ritorno siamo andati a mangiare in un altro paese quando siamo ritornati qua qua sembrava Dallas perché c'è una vitalità che negli altri paesi non c'è mi fa rabbia che ci perdiamo mi fa rabbia che ci perdiamo nel fare vedere una rotatoia con la sabbia nel mezzo per 20 giorni per 20 giorni con la pala messa lì che cosa mi dici questa cosa voi non siete passati in questi 20 giorni tu l'avevi vista la pala con il secchiello nella paletta perché non ci avete pensato voi il mio articolo deve essere e allora dimmi grazie 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 io sono d'accordo aspetta ma questo è l'amore dicono di solito i pezzi che piacciono a Cesare quelli a tema quando c'è qualcosa e io volevo dire solo questo è ovvio che questo è senso civico ovviamente qualsiasi cittadino dovrebbe farlo però io volevo ecco lanciare qua una proposta a Cesare a te a noi cioè è ovvio che le segnalazioni noi ti ringraziamo perché è un servizio che tu fai alla città e noi prestiamo un altro servizio quando possiamo risolvergli questi problemi perché come sta a cuore a te ovviamente sta a cuore anche all'amministrazione però Cesare io ritengo anche opportuno che un piccolo passaggio lo dobbiamo fare nei confronti di chi abita in questo paese cioè noi dobbiamo attenzionare tutto è vero che c'è la lentezza da parte magari dell'amministrazione e tu fai anche i motivi non per incapacità o perché non si vogliono fare le cose non giustifica niente questo perché lo capiamo che sono cose urgentissime comunque da fare però è anche vero che dobbiamo insistere sull'automortificarci noi vogliamo troppo poco bene in questo paese perché è vero che magari come dici tu a Largo Ossa c'era lo scempio dell'immondizia però ci siamo chiesti chi è che fa tutto questo i cittadini rigano i cattivi perché lo avete risolto? sicuramente abbiamo trovato abbiamo trovato un escamotage per risolverlo e lo abbiamo risolto però dico non basta questo ma tu pensi che se io non ho fatto il casino che ho fatto lo avreste risolto sicuramente io dico ascolta come le bandiere come le bandiere ma le bandiere le bandiere erano già state comprate erano state sostituite alla padia e stavano per essere sostituite ma se la verità ma scusa perché io devo dire qualcosa di diverso che ho detto io che ho detto io lo facciamo lo facciamo lo facciamo questo protocollo d'intesa gratuito con Calicatti Web o con chi vi pare con Caffeletto scusa dove ci comunicate i lavori su quale lo possiamo fare però io ti dico questa cosa si risolve dobbiamo anche insistere sul fatto che la responsabilità è di ogni cittadino ok d'accordo cioè voglio dire il paese è pieno di problemi come ogni altra realtà io non sto dicendo che Calcattini hanno più di me anche la gente scusami Lori guarda che ci scrive Loredano Loro è brillante bisogna fare vedere che c'è l'interesse per la città ed attenzione alle cose più importanti le strade piene di buche per esempio non si può camminare neanche a piedi più si rischia di farsi male vogliamo segnali diretti ed efficaci cioè voglio dire io quando parlo metto sempre una premessa e anche Cesare io non voglio prendere le difese di Cesare perché sei amico mio tu sei amica dico i cittadini senso civico non ne hanno e su questo scusami non ci piove il discorso che dice Cesare è che praticamente a volte si crea questo scontro quando lui fa queste segnalazioni ma stai dicendo la stessa cosa volevo solo aggiungere che non era riferito a Cesare il fatto di aver postato le foto io sto dicendo soltanto che si è strumentalizzato per esempio attraverso delle foto io sono scoppa non parlare di queste cose altrimenti la gente può legare questo ragionamento no ma io infatti non è rivolto a te ma devo sottolineare soltanto il fatto che non è che siamo con gli occhi chiusi e i problemi non ce ne rendiamo conto che fanno sappiamo che ci sono 300 cani ovviamente sparsi per tutto il territorio però io volevo sottolineare te l'avevo detto l'altra volta guarda che c'è una legge sul randaggismo che è chiara su questa non è che sono io o chi per me questo è la legge è sbagliata su questo non ci piove la legge è questa che è sbagliata noi che cosa stiamo facendo abbiamo provveduto e voi avete sicuramente letto il consiglio comunale si è approvato questo regolamento è fatto anche dice poco però è già un segnale un segnale vai Cesare senza dubbio io dico non è che l'abbiamo risolta c'è un problema però ascoltami tanto per sottolineare qualcuno ieri scrive sono tre cani allora i cani sono una decina il canile più tre cuccioli perché ieri ci sono andata io è ovvio che quello non è un canile io lo voglio sottolineare è un ricovero non è caricattivo il canile nessuno lo sapeva no non è così non è un canile è un ricovero provvisorio allora io voglio dire si può lanciare la proposta alle associazioni animaliste vediamo di trovare uno spazio e magari lanciare attraverso le associazioni la possibilità e anche il senso civico di questa città per esempio decedere l'uno per mille per poter mantenere un canile sarà forse un'utopia la mia però le altre città guarda che queste cose diventano realtà diventano indicatori di civiltà scusami Censale vai Censale vai siccome poco fa parlavamo di fondi di compensazione fondi di compensazione allora convenziamo una cosa ho fatto due conti della serva che a Caricattì abbiamo le strisce pedonali più vergognose che si ferma ah si sta senti senti questo verbo questo verbo questo ascoltami 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 ci sono le strisce pedonali più vergognose che insistono su tutto il territorio nazionale c'è il rischio che se tu vieni investito sulle strisce pedonali chi ti ha investito dice io non ti pago perché non le ho viste perché non ci sono ma si sta provvedendo ma se mio non aveva le ruote era un camion si sta provvedendo sto dicendo piuttosto che 65 mila euro dirottati la 10 io ho fatto il conti della serva con 10 mila euro ogni striscia pedonale pitturata costa tra le 7 e le 10 euro io mi documento prima di aprire Bocca tra le 7 il bombare di famiglia ci sono stati comuni che hanno dove sono scoppiati gli scandali che pagavano ogni striscia pedonale 60 euro una striscia pedonale poi li hanno arrestati il bombare di famiglia la striscia pedonale una costa tra i 7 e i 10 euro in molti paesi li stanno facendo bianche e rosse il sindaco di Dele l'ha fatto davanti alle scuole ad Agrigento stanno facendo la stessa cosa in molte cose eccetera eccetera perché davanti alle scuole specialmente viene la vergogna poi a mettere la macchia sulle strisce così evidenti lo stiamo facendo ma lo stiamo facendo ascoltami ascoltami ti sto dicendo che con 10.000 euro si fanno circa 100 attraversamenti pedonali 100 attraversamenti significa cambiare il look della città da oggi al domani cioè che tu arrivi a Canicattì e vedi queste belle strisce pedonali come un tappeto di mochette eccetera eccetera in ogni angolo della città allora per fare chiarezza mettiamo un pezzo che non è a tema self control non è questo per fare chiarezza per fare l'epilogo di quello di quello che sui intanto intanto chiudiamo Cesare e Katia non stanno litigando assolutamente Ettore Di Pazzo ciao a tutti vi manchiamo dovevo se bene a Scalzone dovevi venire Andrea Baccaro se mio nonno aveva le ruote era un camion me l'aveva detto Cesare allora 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 scusate scusate per fare chiarezza io lancio una l'ho detta e la ripeto intanto invito Massimo Muratore possiamo invitarlo Massimo io non ho il numero lo puoi riferire Massimo lunedì cortesemente se riesci entrate potete entrare non vi diciamo niente non mordiamo Massimo se tu vuoi venire qua lunedì martedì mercoledì quando vuoi solo per parlarci di questi 65 mila euro perché Katia non lo sa scusami Katia per vedere se serviranno per la notatoria o se serviranno per altre cose io ho chiedito che per lo spazio ok per lo spazio la seconda cosa per mettere in pace siccome diciamo Cesare insomma penso che con l'attestata giornalistica faccia un servizio per la città e l'amministrazione si sta attivando per praticamente cogliere i cocci di questa città no quindi il discorso è questo qua vediamo se riusciamo a fare questa sorta di protocollo di intesa gratuito me lo accollo io se Cesare non ve lo fa anche se il soldi non ha l'assessore muratore dell'ultimo consiglio comunale ha diciamo inviato una lettera al presidente del consiglio in cui ovviamente elenca la difficoltà che è propria del suo assessorato e l'ha fatto con grande umiltà e con grande serietà anche e devo dire anche con grande coraggio perché ci vuole anche coraggio dire così come lo dico io ma il mio assessorato a costo zero fino adesso pochissimo abbiamo speso per poter rendere diciamo qualche evento alla città qualche diciamo momento anche coinvolgente e abbiamo operato prima in assenza di bilancio e poi veramente con costi irrisori ora questo non è che mi sta spuntando l'aureola assolutamente questo è spirito di servizio voglio dire comunque la città deve andare avanti comunque dobbiamo rimboccarci le maniche però ti posso dire che in questa lettera Muratore scrive in maniera accorata e diciamo si rivolge al presidente del consiglio che è un organo diciamo veramente che ha diciamo come obiettivo quello di controllare di essere d'ausilio all'amministrazione e lo informa immediatamente di quali sono le condizioni del suo assessorato allora Evide ci dice il bene pubblico è pubblico non capisco ma non è normale preoccuparsi del bene comune ogni singolo cittadino dovrebbe interessarsi Eliana buongiorno Eliana a te buongiorno 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 cosa dire ma lo facciamo se scherzo stamattina che è così risolvere risolvere pensiamo un po' risolvere un po' aspetta che facciamo questo prima datemi un bacio un bacio un bacio un bacio 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 è sempre siamo in onda siamo in onda dimmi Antonio aspetta Antonio aspetta Antonio aspetta Antonio che sei fu nei guai che schiena aspetta aspetta Ah, l'amore. L'amore che non per forza è quello carnale, quello passionale. Allora, io intanto... Ma fai la persona seria. Io ho già dato. Non è possibile. E ho definitivamente chiuso. Ho detto il tuo matrimonio. Assolutamente. 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 Aspettate. Sì, me ne sto andando. Intanto, intanto... Allora, abbiamo chiarito che... Dai, dai, ma non ritirano, dai. Continua la tua attività. Fa il bravo. Perché io ritengo che sia servizio. Gliel'ha detto? Grazie per quello che fai. Gliel'ha detto? Non succedire. Non succedire. Parliamo con... Ne vogliamo parlare. Come lo dico io? Lo dico sono io, scusa. Katia, lo dico sono io. Non comprendiamo le cose, eh. Lo dico sono io. Cosa? Calma, calma. Cosa? Che ti le dizia buongiorno a te? Ciao. Da qua ci sei. No, voi, perdonatemi. Allora, io lo faccio ottonomamente da privato, eccetera, eccetera. Voi siete l'amministrazione, vi siete candidati, vi abbiamo votato, vi paghiamo per fare quello che fate e quindi è il vostro domenico. Ma io, non è che... Grazie a me che lo faccio gratuitamente. Devo dirti che io non c'è... Io, Erika, lo dobbiamo fare... No, 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 no. Cioè, io non è che lo trovo così difficile. Dai, dai, basta, dai, basta. Mi viene naturale dire che ogni sollecitazione per noi è importante. perché la città, la Civitas, non è che è dedicata a farlo avuto. Aspetta, Antonio. L'attività, l'attività, la comunità. Come se dovessimo chiudere il nostro giornale, mi spiacerebbe. Mi spiacerebbe. Vattene via. Censura! 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 Ritieni di punizione per una settimana. Antonio, passa qui. Io sono contro assolutamente ogni tipo di censura. Quindi... Vai, Antonio, vieni, vieni, Antonio. Prego, prego, prego. La mia visibilità non è... Tieni, fanno il microfono, se no non ti sente. Tieni, parlami al microfono. Che è quello che dico, se devo parlare di strisce pedonali. Sì. Perché non si fa una cosa autonoma, nel senso che si sponsorizza ogni strisce con un'azienda? E si fa le spese proprie. È bella, è bella sta cosa. Che è una cosa carina. È bella, è questa cosa. Il signor Melia, mi riempie di gioia. Devo dire la verità. Perché è un cittadino a 360 gradi. Bravo Antonio! Bravo Antonio! Bravo Antonio! Ora facciamo lo scherzo. Grazie Cedro. Allora, adesso, perdonatemi se vi interrompo un altro, io non ho parlato niente, finora. Allora, volevo dire una cosa. Innanzitutto ringraziare... Ah, era per il pezzo, lo voglio dire. Ringraziare Lorella. Ieri, hai visto che c'è stata proprio una bella presentazione del libro La Donna del Salgemma. Vi invitiamo a comprarlo. Dov'è possibile comprare il libro di tua sorella? Possete dire di tua sorella? Ci informiamo, ci informiamo e ve lo facciamo sapere. Poi, dopo lo scherzo, abbiamo qui un amico, si chiama Peppe Lana, che viene a suonare qui domenica. Magari lo facciamo parlare due minuti. Due minuti, due minuti, due minuti del gruppo. E adesso lo scherzo... Aspetta, provo a fare lo scherzo. Che succede? Allora, proviamo a fare questo scherzo, vediamo che succede. Oi, dimmi Angelo, quando vuoi, quando vuoi. Chiamami e ne parliamo. Va bene. No, stasera no. Questa... Io la faccio con la mia voce. Domani, domani. Ok. Allora, aspetta. Asterisco, ciao Angelo. Cancelletto. Sempre. 31. 31. 31. Cancelletto. Cancelletto. Che è un altro numero questo? Scrivi, scrivi questo numero. Aspetta, vediamo quale c'ho io. Allora, cos'è questo scherzo? Di chi lo stiamo facendo o non lo possiamo dire? Questo qual è? Questo scherzo. Ma a chi lo stiamo facendo questo scherzo? Sto facendo all'assessore di Natale. Allora, mi pare che... Io lo faccio, io ci penso. Abbassa. In questi giorni ho sentito che nel quartiere della via Berlinguerre i cittadini hanno pulito e hanno fatto un'intervista a Enzo Di Natale dove Enzo Di Natale ringraziava. Allora, noi proviamo a dire che siamo dei cittadini di Poggio di Luce, abbiamo deciso di mettere una squadra ed aiutare il comune a pulire la città, però io chiedo a Enzo Di Natale quanto ci può dare. Sì, un centone. Tu sai qua, poi è una cusuzza, ci dico. Vediamo se ci risponde la seconda. La voce, la voce? La voce? Eh, aspetta. C'è la luna e non risponde quasi nessuno. Managgia, managgia. Dobbiamo prendere una scheda, un numero... Niente, riproviamo. Sì ci vogliamo riprovare. Proviamo un'altra volta, vediamo se risponde. Massimo me lo fai venire. Non lo ha detto, martedì. Io non ho il numero di Massimo. Io avevo la febbre, comunque io lo riferisco. Così mi porta anche una sorta di... Angelo! Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno Angelo. Ah, addirittura. Buongiorno. Buongiorno, Spagioni. Siete arrivati tardi. Siamo arrivati? Tardi. Stiamo finendo. Siete arrivati? Sì, 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 sì. No, perché secondo me... Secondo me Pietroldiana avrebbe... Con la speranza... Secondo me Pietroldiana avrebbe... Ma possiamo allungare la diretta? Mi sarebbe piaciuto. 5 minuti, 5 minuti. 5 minuti a parlare. 5 minuti, ma devi venire a parlare. Dai, prendete il cazzo al volo. Napoli, vieni, Napoli. Katia, allora ti concediamo... Giuseppe. Vuoi rimanere con noi? Alci 5 minuti. Allora mi mandi Massimo quando puoi. Quando posso? No, intanto io... Sì, glielo dici. 5 minuti.